Lefranchi, a proposito delle discariche, Mater Grazie. Su questo tema è oggetto di approfondimento proprio in queste ore, in queste settimane. È più serio parlarne dopo la riunione che avremo da qua, credo una settimana, in regione con il Dipartimento. Quindi è allo studio della regione il caso, il caso Mater Grazie. Assolutamente sì. Quindi prossima settimana attendiamo? Credo di sì, credo che ci sia un tavolo convocato, non mi far dire la data precisa perché non me la ricordo, però lo stiamo affrontando assolutamente ed è il Presidente Pignano in prima persona che si sta occupando della CED.